Benvenuto, allora abbiamo imparato a conoscerlo tutto, i generali degli Alpini, dal primo marzo commissario straordinario per il coordinamento del contrasto al Covid. Allora, in divisa, la vedo, in divisa, lo sai che su questa divisa si è discusso molto? Alcuni sono stati spaventati. Ma io spero che questa divisa rassicuri, questa divisa è un uniforme che per me vuol dire oltre 40 anni di impegno, di passione e di orgoglio. Le faccio vedere cosa ha detto qua in trasmissione Michela Murgia. A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non l'ho mai subito il fascino della divisa. Questo fascino per l'uomo forte, gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero le forze dell'ordine, che stavano dichiarando un arresto importante, sono i dittatori negli altri paesi. Io quando vedo un uomo in divisa un po' mi spavento sempre. Cosa risponde? Beh, io sono una persona comune che ha avuto la fortuna, con tanto sacrificio, tanta passione di vincere un concorso all'Accademia Militare, di impegnarmi, di studiare, di operare sul campo, di fare attività organizzativa e di raggiungere il vertice della mia Forza Armata. Sono sempre stato a servizio dell'Italia, del mio paese e in tutte le attività in Italia e all'estero ho visto tanta gente, soprattutto nei posti più martoriati del mondo, che quando vedevano un uniforme, soprattutto l'uniforme dei militari italiani, vedevano giustizia e protezione. Senta, perché serviva un militare? Perché non bastava? Prima c'era un manager anche apprezzato della macchina statale. Perché secondo lei hanno pensato a un militare per la gestione della vaccinazione? Io credo che si è pensata ad avere una persona che in un momento difficile decida rapidamente sulla base di una capacità di saper fare pianificazione operativa e logistica, tenendo ben precisi tutte le variabili che scendono in campo in un'attività così complessa come quella di una campagna vaccinale nazionale e soprattutto la capacità di controllare gli scostamenti. Però le direbbero che questo è un'attività di un'attività di un'attività di un'attività